Siamo qui per il film Lunga della stella e stiamo a filmare ora. Praticamente ho reinterpretato tutte le donne vestite ovviamente in chiave moderna. La make-up per ogni ragazza è molto diverso, quindi da molto molto più drammatico, e poi da un'emotione, e poi aiutare la make-up a lavorare con tutto il resto, e portare il mood allo. Wow, 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 it's amazing.